...anche per lo sconto, oltre che per l'impegno politico e sociale. D'altra parte, negli ultimi anni, il figlio di Marco Seda, il rinuncio che è stato qui, ha voluto considerare anche la storia sfruttiva di Paragiano in alcuni pregevoli scritti che noi abbiamo presentato anche pubblicamente, la presenza di tanti sportivi, diciamo, come i giovani degli anni 50, degli anni 60, addirittura in una di queste occasioni avevano l'opportunità di conoscere e di ospitare anche degli altri che venivano da altre parti della nostra vita. La storia di un paese deve essere sempre legata alle donne e agli uomini che vanno a distanza del loro lavoro, del loro impegno, vanno ancora a distanza di 50-60 anni a parlare di sé. Mi sembrava quindi doveroso proporre, prima alla Giunta e poi al Consiglio Comunale, la intitolazione del campo sportivo a Marco Seda, con la motivazione che è qui, nella proposta di diritto, della spazio e della sistemazione del parco archeologico che sta nascendo le spalle dell'Orozo Massimo, una struttura dedicata ai tuoi, soprattutto ai ragazzi, una struttura che impegnerà il pergo libero dei nostri ragazzi, anche per sottratti dei pericoli della strada. Ed è soltanto di pochissimi mesi fa l'ultima tragedia che ha colpito il nostro paese con la tragica scomparsa di un ragazzino di soli contro di ciaio. Sulla strada alle 7, infatti, Orazio Maria Santoro, subì un incidente con una semplice bicicletta, un momento di sbaglio e di troppo che si trasformò in un lutto che segnò ovviamente indirittimamente la sua famiglia, ma io penso che ognuno di noi porta oggi ancora il segno del dolore di quella tragedia. Dedicare una struttura per ragazzi all'un ragazzo scomparsa e scomparsa tragicamente. Anche per i nipoti di Marcosia, due dei quali stasera sono qui, Fabio, figlio di una sorella, e Stefania, mia figlia. Io non ne ho modo, voglio soltanto ringraziare il sindaco per intanto le cose che ha detto qui stasera. So che non sono delle cose dette per l'occasione, ma sono sentite profondamente e realmente. Insieme a lui voglio ringraziare la Giunta che per prima ha accolto la proposta che è stata avanzata dal sindaco e naturalmente ringrazio tutto il Consiglio Comunale che ha voluto all'unanimità accogliere le due proposte, perché sono due proposte importanti. Grazie a tutti. Sono stati arrivati come uno che voleva sconvolgere tutto. Giustamente ce ne sono le proposte che voleva sconvolgere tutto. Perché poi alcuni dirigenti che parlavano, o presunti dirigenti dei DS, poi si è visto che dopo abbiamo trovato in Giunta, nipote e il marito della nipote faceva il dirigente dei DS. Trovai i DS non dovessero, no? Questa era la democrazia. Mentre chi è stato votato sta fuori. E i partiti, poi non mi vengono a parlare dei partiti, perché nel momento in cui lei ha deciso di alzerare la Giunta, i consiglieri presenti da loro alzati un dito. Nessuno deve essere. dove i miei assessori scegli sono stati elogiati. Bravi, belli, avete lavorato come si deve. E poi messi da parte. Senza che nessun consigliere ve l'avete insegnato voi la politica. Sì, da qui ho iniziato a fare politica di senatore. Ma voi? Ma così. Buca! Buca! Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ci rima cosa a seconda come ti conviene. Poi tra l'altro i consiglieri di opposizione, come lei dice, dei momenti importanti erano presenti. Quando c'erano votati i canali, i due milioni di euro dei canali, i consiglieri di opposizione, mentre quelli di maggioranza, erano completamente assenti. Forse non sono rivolto, può prendere la registrazione. Il rivolto tu vuoi rivolto. Eh, va bene. Sì, te lo rivolto così tanto. Io sì, io sì. Lei è arrivato in ritardo. Forse non sono rivolto. Lei è arrivato in ritardo. Se quelle persone occupano posti dove la gente di Palagiano aveva scartato, è naturale che nel momento in cui il Sistema Foresta decide di cambiare questa voce, non hanno voce in capito. E non hanno volontà a un cambiamento pure per quello che si dice in un intervista elettorale che ci dà il cambiamento del Presidente. E perché nel Consiglio non c'è niente da dire. Ha lavorato bene, è stato di casa. Ha lavorato bene, ha prodotto bene, eh? Segui una miscita. Mentre se il Consiglio è presente, è possibile ci vuole. Forse ha posto il suo perché i cittadini di Palagiano lo avrebbero votato. Poi dovete vedere se lo cambiate così tanto facilmente. avevi chiesto bene di rimettere il mandato e di denunciare e di fare sostituire qualcuno, te l'avevo giurato il primo giorno. Cinque anni, cinque anni che è già da vedere di rimettervi per lealtà. Sei un politico sveale. Io non cambio partito. Se decido di andare a via vado a via e sei un politico 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 e questo te lo prenderò in tutte le idarie che conosco facendoti fare sempre la figura che rispetta. Quello della persona incoerente è sveale. Questo non lo voglio sono stato poi da lì all'altro. Multicidio all'altro. Perché non per favore non possiamo assistere a questi imputati che si fanno la mia e poi ci razzano la mia. Noi stiamo dando l'esempio di quello che succede nel governo italiano. Stiamo nel continuo con una disabilità per favore un po' di rispetto alle persone che assistono a questa domanda e soprattutto ai consiglieri comuni. Vorrei ringraziare in primo luogo il sindaco di Palaggiano l'amico e compagno Rocco Ressa per aver portato in consiglio comunale la proposta di intitolare a Marco Stia mio padre il campo comunale di Palaggiano e lo ringrazio anche per le belle parole che ha detto in consiglio stasera. Naturalmente insieme a lui voglio ringraziare anche l'intera giunta di Palaggiano che ha sostenuto questa proposta e l'intero consiglio comunale che si avvia a votare questa proposta così come ringrazio tutti quei palaggianesi che nel corso di questi anni hanno fatto sentire il loro accordo con questa proposta che questa sera giunge alla sua naturale conclusione. di palaggiano di palaggiano di palaggiano di palaggiano di palaggiano di palaggiano